Come ogni anno torno agli orti di Pignone è ormai una vera e propria tradizione. Sì, anche quest'anno torno agli orti di Pignone, è la ventitresima edizione, un'edizione che sarà carica di molti aspetti anche diversi, rappresentata come mostra mercato e come tutti gli anni saremo lì ad accogliervi più numerosi che sarete e saremo orgogliosi appunto che veniate a trovarci, tenendo conto che comunque arriverete in un borgo che diciamo negli ultimi anni è rifiorito grazie anche ai numerosi investimenti e quindi troverete oltre che tutto ciò che è legato al mostra mercato degli orti, quindi per ribattezze, musica, ma anche uno spazio culturale legato all'enogastronomia e a tutto ciò che è un contorno legato a tutto ciò che è il food. Parola inglese che dico tutto ciò che è legato al mangiare e al mangiare, ma al mangiare sano, al mangiare contadino che tutti gli stand ripropongono ogni anno. Quindi come tutti gli anni facciamo un appello appunto a tutte le persone che avranno voglia di venire a trovare e di venire a trovare, tenendo presente che questa amministrazione si rifuggerà su due giorni, ci sarà un'inaugurazione alle ore 17 delle 24 di agosto e proseguirà con i banchi gastronomici che apriranno alle 18 fino a circa le 24, fino a quando c'è gente. Il giorno dopo, che è la domenica 25, dalle 10 in poi si aprono i banchi gastronomici e si va fino a sera con pranzo e cena appunto fornito da numerosi stand che sono presenti e tutto ciò che è il contorno, con prodotti tipici, appunto magazine legati all'agricoltura, interviste ed altre cose che saranno a contorno di tutta la manifestazione. Vi preghiamo di essere attenti quando arrivate con l'auto, perché comunque è sempre un problema parcheggiare, perché comunque è un'amministrazione molto gettonata, noi cerchiamo di rendere il massimo, ma poi diciamo che vi aspettiamo e anche se avrete un po' di disagio, venite perché mi vale veramente la pena.